bene amici del canale di Deciasti oggi siamo in compagnia di un carissimo amico che vi presento si chiama lorenzo ciao a tutti e siamo in compagnia di nexus 4 con versione software android l che è un porting della versione l del nexus 5 in poche parole non è uscita in maniera ufficiale su nexus 4 ma grazie a persone che ci hanno lavorato dietro è stato possibile inserire il nuovo software di google direttamente anche su questo telefono che non è più recentissimo per coloro che sono intensi sono interessati alle caratteristiche del telefono ve le ricordo rapidamente abbiamo 133,9 per 68,7 per 9,1 millimetri di spessore con un peso di 139 grammi una batteria non removibile da 2100 miliampere vetro anteriore vetro posteriore fronte retro vedete anche la pixelatura tridimensionale bellissima sul sul retro e un processore snapdragon s4 pro da un giga e mezzo quad core 2 gigabyte di memoria ram ovviamente presente il led di notifica abbiamo anche due fotocamere una anteriore da 1,3 megapixel e una posteriore da 8 megapixel quindi questa ben o male è la panoramica per quanto riguarda l'hardware del telefono concludo con il display che è un'unità da 4,7 pollici hd ips da 320 ppi quindi un display che all'occhio risulta veramente ben definito vedete qua se vi avvicino il telefono alla videocamera la qualità del display che è veramente veramente ottima ma andiamo a vedere la versione di android l come si presenta ce la introduce lorenzo dici tutto lorenzo allora la prima cosa che voglio far vedere è la novità che google ha introdotto nel nuovo lock screen eravamo abituati al famoso anello con cui sbloccavamo scorrendo verso destra e la possibilità di magari di aggiungere widget sulla schermata vediamo che se io cliccassi tenendo premuto sull'orario non mi succede niente anzi viene suggerito scori verso l'alto per sbloccare e quindi questa novità di che si scorre verso l'alto per andare a sbloccare il dispositivo scorriamo verso sinistra andiamo a sbloccare il dialer mentre scorriamo verso destra andiamo a sbloccare la fotocamera come era anche fattibile nella versione precedente di android kitkat voglio farvi vedere il nuovo dialer perché è stato completamente ridisegnato è stato aggiunto questo celestino e inoltre con varie animazioni in stile material design come è stato annunciato al google io appunto come se ci fossero più piani uno sopra l'altro e si crea un po di questo effetto di luci e ombre con come far sembrare che i numeri fossiano in risalto rispetto al numero che andrò a digitare bene e inoltre è stato anche per rendere molto più coesi i colori è stato aggiunto anche il colore sulla barra di stato in una tonetà più scura e questo è quanto sostanzialmente questa è la fotocamera questa invece è la home screen sostanzialmente non cambia quasi niente perché è rimasto il google now lancer credo sia stato aggiornato alla versione 5.0 e di novità particolari c'è soltanto l'introduzione della hot word ok google vedete si attiva ora non sono con il site internet riceve anche parecchio bene il comando vocale no dovrebbe funzionare anche con google now di solito partiva oggi non parte e niente questa è semplicemente la schermata non è niente di nuovo e l'unica cosa che cambia sono a parte i tasti i tasti in fondo si li vediamo diversi vero lorenzo sono diversi anche se si passa completamente le solite funzioni torna indietro torna alla home e il multitasking che dopo farò vedere quello che cambia è la nuova barra di stato e anche questa sta ridisegnata innanzitutto si passava dal tutto il nero che scorreva fino in fondo e se continua a scorrere i quick setting invece di trovarsi in una pagina diversa si trovano sotto sempre in stile material design come puoi vedere che passano da sotto come se questo tutto fosse sopra un altro livello qua controllo della luminosità wifi bluetooth per attivare l'utilizzo dei dati modalità novità che posso farvi vedere sono l'icona di trasmetti schermo che per chi ha la chromecast collegata alla televisione può servire non ho ancora provato ho avuto il piacere di provarla e notifiche notifiche è la novità perché introducono la possibilità di disattivare le notifiche cioè io voglio non essere disturbato per un'ora per due ore possono decidere quanto così che non mi arriva messaggio non mi arriva notifiche di nessun caso e disattivarlo per un'ora oppure fino a quando voglio io e si aggiunge la possibilità di andare direttamente alla pagina dell'impostazione di scegliere anche più specificamente cosa bloccare se sono messaggi solo chiamate da una sorta di blacklist diciamo un'applicazione varie applicazioni ci sono sul play store google ha ben visto dire aggiungerà nativamente ora vedete l'ho attivata e mi verrà l'icona che io adesso non voglio essere disturbato ma noi ora non la togliamo perché non ci interessa bene mentre altra novità molto interessante sempre sul fattore di design è il nuovo multitasking ora ho aperto volontariamente alcune applicazioni per farvi vedere anche qui abbiamo il multitasking a schede non so se avete presente il multitasking di Chrome quando apriamo più pagine non appare proprio così ma invece di avere sempre i quadratini con cui ci aveva abituato Android nelle versioni precedenti abbiamo questo riquadro molto più grosso da cui possiamo passare direttamente all'applicazione noi lo facciamo diciamo è semplicemente un redesign niente di più non aggiunge niente diciamo in fattori di prestazione e c'è un pulsante per chiudere tutto o no? cioè invece di swipeare solo così cioè si swipe per chiudere l'applicazione bisogna solo cancellare ok non c'è alcun pulsante non è stato aggiunto diciamo viene aggiunto per in rom modificate per esempio Paranoid o Cyanogen ok che magari picciando direttamente qui o scorrendo in alto comunque è ancora una prerogativa che Google non vuole mettere un'altra novità che volevo farvi vedere sono anche il redesign delle nuove impostazioni abbandonato completamente il nero con cui è vero nelle cose ora abbiamo questo bianco barre grigie titoli in verde acqua e sostanzialmente anche le applicazioni sono le stesse tranne qualche nuova applicazione per esempio un esempio può essere batteria vedete questo è sostanzialmente l'utilizzo all'ultima volta che ho caricato fino al 100% l'ho usato per due giorni per vedere anche come la batteria funzionava perché al Google Ione ho introdotto un nuovo progetto Project Volta che a quanto dicevano doveva aiutare un po' l'autonomia ora secondo me essendo una preview questa funzione ancora non è molto sperimentale infatti la batteria non è che mi dure più di tanto anzi l'utilizzo abbastanza forte la riduce sensibilmente la novità è che mi fa vedere anche l'orario la previsione è quando si potrà scaricare completamente cioè se io sto sempre a schermo acceso magari in queste impostazioni arrivo tranquillamente a mezzanotte e a mezzanotte mi si scarica e dovrò ricaricarlo abbiamo questa voce varie che non si capisce che cosa sia riesco soltanto a dedurre che sia che è stata la previsione su cui si basa il grafico fa vedere il consumo effettivo massimo che è di 2793 mAh e che è molto superiore alla capacità totale della batteria è vero che credo sia il concetto su cui si basa lo scaricamento del grafico mentre abbiamo altra cosa da farvi vedere è la barra di ricerca che è stata introdotta come può essere capitata a chiunque di andare a cercare una particolare impostazione di non riuscire a trovarla e hanno aggiunto la possibilità di andare a ricercarla per esempio se non sapessi dov'è risparmio batteria che è un'altra nuova funzione scrivo appunto risparmio batteria e mi vengono mostrati i risultati utile risparmio batteria è appunto l'altra modalità che è stata introdotta da Google che è sempre proprio per aiutarci ad aumentare l'autonomia del telefono e dovrebbe diminuire c'è scritto che dovrebbe diminuire le prestazioni del tuo dispositivo aiutandoti ad arrivare a fine giornata sostanzialmente e possiamo scegliere se attivarla con il 5 al 5 a vari livelli di batteria non è niente di che bisogna ancora verificare se le prestazioni sono diminuite eccetera eccetera ultima cosa che volevo farvi vedere su cui Google insiste molto le nuove versioni dell'easter egg infatti se vado a cliccare più volte sui versioni di Android L fa vedere l'easter egg vediamo che è ancora in fase sperimentale infatti è scritto androidl.flv e se tengo premuto non succede niente eccoci qua ok fa vedere la modalità schermo intero come era nella versione vecchia di GitHub quindi dovremmo aspettare la release ufficiale che uscirà in autunno ultima cosa che volevo farvi vedere è la nuova tastiera layout rissegnato tutto quanto hanno aggiunto questo grigio anche qui sostituito dal nero possibilità di emoticon carina e di swipe e qui possiamo scrivere questo sono io e un'altra cosa che colgo l'occasione di farvi vedere è anche il nuovo sistema di notifiche se io mi scrivo e chiudo vedete mi appaiono le notifiche adesso sul lock screen quando prima apparivano eravamo abituati a vederle apparire qua su ci appaiono direttamente sul lock screen e posso scegliere se swipearle verso destra verso sinistra per eliminarle oppure novità se clicco una volta mi viene scritto tocca ancora per aprire e cliccando due volte vado direttamente all'applicazione bypassando sostanzialmente il lock screen queste sono le novità principali e qui chiudiamo il multitasking esatto vi volevo ricordare che non tutte le applicazioni su questa preview viaggiano proprio perché abbiamo google si è impuntata oppure sta cominciando a sviluppare in tecnologia art che è una tecnologia di compilazione delle applicazioni e non tutte le applicazioni viaggiano per esempio facebook non vi girerà mai sulla preview e devono essere aggiornate una delle ultime applicazioni aggiornate per far vedere una novità music match si vede dal fatto che anche la barra di stato viene colorata e una sorta di matica design anche questa applicazione basta io non mi sento dirvi più niente vi consiglio di provarla perché è veramente fatta bene come porting se avete un nexus 4 e volete un po' ripetarizzarlo funziona praticamente tutto utilizzo dati wifi telefono tutto quanto fluidità un po' meno un po' meno laggosa un po' più laggosa scusate del nexus 5 ma non si nota veramente pochissimo magari qualche bug sul fine della batteria non si sa perché io vi ringrazio grazie lorenzo vi farei vedere in ultima analisi come si muove bene o male il menu diciamo principale del telefono il desktop possiamo sempre creare cartelle sovrapponendo le applicazioni una sull'altra vedete quindi portiamo dentro e portiamo fuori per creare le cartelle e facendo un pinch in e out vediamo che non succede nulla tenendo premuto sul desktop su uno spazio vuoto andiamo a inserire sfondi widget e andare e possiamo andare nel menu delle impostazioni in maniera diretta mentre per vedete non posso io creare nuove pagine per creare una nuova pagina io dovrò prendere una un widget o un'icona e andare sul lato destro vedete e avrò creato automaticamente una nuova pagina nuova pagina che si può rimuovere semplicemente ritappando sull'icona riportandola nella pagina da cui proveniva e come vedete non c'è più la terza pagina che si era creata in precedenza anche la fotocamera rimane pressoché invariata abbiamo la google fotocamera con i vari settaggi rapidi qui sulla sinistra vedete con un pulsante di scatto inserito in un rettangolo abbastanza grosso prendo una scatolina per farvi vedere anche come scatta le foto velocità di scatto e immagazzinamento sono abbastanza rapidi come lo è il il diciamo gesto per portare subito in bella mostra gli scatti acquisiti vedete con pinch in e pinch out scusate sto facendo un po' di velocemente non riesco a farvi vedere tutto quello che volevo farvi vedere pinch in e pinch out abbastanza veloce per cancellare la foto facciamo un pinch out e portiamo la foto dal basso verso l'alto in questo modo la foto sarà cancellata questo per quanto riguarda la fotocamera di della release di android l direi che per il momento possiamo fermarci qui se ci sono domande richieste in particolare scrivete pure ringrazio lorenzo per questa breve panoramica grazie lorenzo di nulla e ci sentiamo presto sul canale di deciasti un saluto a tutti da davide ciao ragazzi ciao ciao